Siamo qui a Cozzorotondo, il luogo del mistero, un luogo che è stato anche analizzato recentemente dalla trasmissione di Re 2 Voyager, un luogo dove le leggende, un po' negli anni, sono andate avanti e dove si parlerebbe del presunto tesoro di Re Alarico, il Re Visigoto che avrebbe dimorato l'ultima volta in questi territori e le cui spoglie mortali, secondo alcuni, risiedono proprio in questo Cozzorotondo. Cozzorotondo, come potete già vedere, è un montarozzo di natura andropica, cioè modificata dall'uomo, come si può vedere nella sua massima sommità, dove comunque vi è una posizione pianeggiante, quindi questo è un luogo abbastanza misterioso dove negli anni Ottanta ci furono anche delle indagini, ci furono le prime rilevazioni e ci fu un vero e proprio caso nazionale. Un caso nazionale che peraltro è emerso in tutta la sua forza negli ultimi mesi, dove si presume, per quanto riguarda almeno Cozzorotondo, che il tesoro di Re Alarico, formato di tonnellate d'oro, d'argento e di tutto quanto ha potuto saccheggiare, trovare nel corso della sua esistenza, sia stimato in, pensate un po', un miliardo di euro. Dunque sarebbe una cifra veramente clamorosa da ritrovare che risolverebbe tante cose. La nostra speranza ovviamente è che ci sia un maggior interesse anche delle istituzioni per rivalutare questo luogo storico e per chiarire anche qualche mistero. Con questo vi rimandiamo la linea.